Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il Fatto. Questo pomeriggio è tornata normale la circolazione sul tratto da Assergi e Colledara, quello del traforo del Gran Sasso sulla A24. Una notizia che ci rende tutti lieti, una notizia che giunge al termine di giorni convulsi in cui sono avvenute cose, sono state revocate delle scelte. C'è stato qualcosa che evidentemente non è andato come doveva andare. Allora noi vogliamo che ci sia una chiarezza su ciò che è avvenuto e su ciò che potrebbe avvenire per evitare magari che si evitasse qualche passaggio vuoto. E lo facciamo avendo avuto la grande disponibilità da parte di Strada dei Parchi, che è qui nei nostri studi, con l'amministratore delegato Ingegner Costantino Ivoi. Buonasera, grazie. Buonasera direttore. Grazie per aver accolto il nostro invito. Intanto con lei riepiloghiamo cosa è accaduto proprio in queste ultime ore. Quali sono stati i passaggi che hanno portato a questo momento di sollievo per tutta la comunità abruzzese, in particolare di chi lavora su quel tratto autostradale, lo usa per il proprio lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi il cantiere che era stato consegnato al commissario straordinario per l'esecuzione delle indagini geognostiche ci è stato restituito e la società Strada dei Parchi, dopo le formalità del caso, ha ripreso questo fornice che era chiuso per l'esecuzione delle indagini geognostiche e ha potuto ridare traffico ad entrambe le carreggiate. Per cui la problematica dei giorni scorsi è stata definitivamente rimossa. Iniziamo a fare un po' di cronistoria. Come si è arrivati a questa scelta di fare questi lavori da parte del commissario, proprio in questo momento, e soprattutto che ruolo ha avuto Strada dei Parchi nel processo decisionale di avviare e poi successivamente anche di revocare questo intervento? Corre l'obbligo di puntualizzare che Strada dei Parchi, rispetto alla scelta tecnica progettuale degli interventi da farsi per la protezione dell'acquifero del Gran Sasso, non è il soggetto deputato a questa scelta. È stata istituita una figura che è quella del commissario straordinario, il quale è responsabile della progettazione, dell'affidamento e della realizzazione di questi lavori e il commissario straordinario, Ingegner Caputi, ha ritenuto di dover effettuare queste indagini geognostiche che dovevano durare, come da previsioni, 45 giorni e che sono partite praticamente lunedì scorso, lunedì 14, attività rispetto alle quali Strada dei Parchi si è posta nella condizione di gestire e disciplinare il traffico sulla corsia non interessata dei lavori. Questo perché una scelta del commissario che ci ha chiesto questa disponibilità, Strada dei Parchi ha ritenuto di offrirla in nome del servizio che intende fornire alla propria clientela. Del resto avete dovuto subirla questa scelta? Del resto l'abbiamo dovuta subire perché ovviamente, come lei potrà immaginare, questo intervento ha causato anche problematiche di traffico, cali di traffico e anche la gestione di questo sistema per disciplinare il traffico è stata comunque una gestione complicata che ha richiesto l'utilizzo di risorse competenti e capaci di gestire le tipiche piccole emergenze che si possono incontrare nel momento in cui si gestisce un regime di circolazione a senso unico alternato. Ecco appunto, io poi anche sulla scelta operativa che ripeto deriva da una scelta che Strada dei Parchi, così come gli altri hanno subito rispetto alle esigenze legittime del Commissario Caputi, poi ci sono stati appunto questi giorni, questi primi giorni, già una settimana sostanziale di attività di questo regime di circolazione. Ecco io le chiedo, ma voi avete dei dati anche sui transiti, sui tempi di percorrenza di questa prima settimana di esercizio del cantiere? E soprattutto alla luce di questi dati c'è anche una riflessione che si può fare circa eventuali accorgimenti se poi si dovesse riproporre un intervento di questo tipo risolta la questione dell'acqua torbida? Allora partiamo per l'ordine della sua domanda. Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, quello che posso dire è che dopo una fase di assestamento iniziale, nell'ambito della quale abbiamo cercato di capire quanti accodamenti si creavano e soprattutto qual era il tempo di riattivazione degli accodamenti, che di fatto si può ipotizzare ma poi va sempre costatato sul campo, abbiamo sempre in virtù delle persone che abbiamo messo a sovraintendere questo sistema complicato di gestione del traffico, ci siamo tarati su una tecnica attraverso la quale svuotavamo la sacca di coda completamente in maniera tale da consentire a chi stava in coda di non avere due cicli di rosso da dover scontare prima di poter passare. Questo ha fatto attestare i tempi di attesa attorno ai 60 minuti, diciamo che 60 minuti è stato il tempo di attesa più o meno massimo che abbiamo registrato quando le code superavano i due chilometri, diciamo in una condizione non di orari di picco, quindi quando le code erano attorno al chilometro e mezzo, diciamo tra un chilometro 4 e un chilometro 6, i tempi si riducevano fino a 45-50 minuti, nelle fasce orarie invece notturne, serali dove il traffico andava a scemmare, riuscivamo a rispettare un tempo d'attesa che poteva al massimo essere di 35 minuti. Quindi questo è quello che noi abbiamo riscontrato, ovviamente diciamo questo al netto di qualche situazione, emergenza imprevista, insomma si è verificato chiaramente come è immaginabile, si è verificato qualche caso in cui c'è rimasta anche una macchina in panna, in galleria, quindi si è dovuto chiaramente intervenire in modo straordinario. Per quanto riguarda i volumi che lei mi diceva, insomma i volumi sembrano essersi immediatamente in qualche modo riprotetti alcuni volumi, soprattutto per quelli che erano i transiti di lunga percorrenza, si sono riprotetti su un tracciato che poteva essere un tracciato diverso, soprattutto la direzione da Teramo all'Aquila che in realtà contiene più traffico di lunga percorrenza, quindi traffico magari che anche dalle marche del sud cerca di andare verso la capitale, abbiamo avuto modo di riscontrare un drastico calo, un calo dell'ordine di 10-15 punti percentuali in funzione delle diverse classi di veicoli sulla 24, quindi il tratto che era sostanzialmente toccato dai lavori, il traffico si è riprotetto andando verso Pescara a Chieti facendo la 25 da Pescara a Torano e quindi lì abbiamo registrato appunto un leggero, quasi corrispondente incremento del traffico. Per quanto riguarda i veicoli leggeri abbiamo invece poi riscontrato anche durante il fine settimana un certo calo del traffico consistente, quando le parlo di calo del traffico le parlo sempre di confronto con la settimana omologa dell'anno precedente, che è il nostro modo di misurare e di valutare il traffico e quello che abbiamo notato è che abbiamo avuto un calo circa del 15-20% più o meno a parità di condizioni meteo, perché pare che anche l'anno scorso il meteo nel weekend fosse stato un pochino piovoso e quindi non fosse in qualche modo un meteo propenso per andare a fare gite fuori porta o comunque attività di tempo libero. Sugli accorgimenti che magari potrebbero migliorare questo genere di gestione dei flussi di traffico e soprattutto io le chiedo, adesso la situazione è in mano a, in particolare a Ruzzo che dovrà verificare poi le cause di questo intorbidamento dell'acqua, quindi c'è uno scenario per cui risolto questo problema, non sappiamo quando, ma comunque in tempi che poi consentano al commissario di appaltare i lavori definitivi avendo questi risultati sotto mano e anche poi gli interventi che intende fare, comunque si riproponga la stessa necessità, quindi il problema è soltanto rinviato. Ecco, se si dovesse rifare, quali sono gli errori che gli altri, strada dei parchi, dovrebbero evitare di fare? Io glielo chiedo anche, perché questa mattina era in campo questa ipotesi, la leggevo in un editoriale di Domenico Ranieri sul quotidiano Il Centro, che potrebbe esserci anche in campo uno scenario in cui sia strada dei parchi stessa che conosce bene appunto i dati che lei ci ha dato, come funziona quel tratto, a svolgere ovviamente su un carico del commissario questi interventi, gestire meglio la situazione. Perfetto, allora diciamo, anticipo questo, cioè la cantierizzazione che strada dei parchi ha proposto al commissario e che poi è andata in onda, questa del senso unico alternato, è ad oggi, cioè le condizioni attuali, l'unica cantierizzazione possibile. Perché è l'unica cantierizzazione possibile? Perché dopo i casi che si sono verificati diciamo negli ultimi anni si è divenuti al fatto che una corsia per ogni carreggiata dovesse essere dedicata al transito dei mezzi di soccorso meccanico in caso di emergenza. Quindi avendo solo una corsia per canna a disposizione, peraltro con ulteriori condizioni che sicuramente gli utenti conoscono, quindi la limitazione di velocità a 60 km all'ora, il distanziamento tra i veicoli, l'unica modalità con la quale è permesso di andare a fare delle indagini, dei lavori in una canna è quella di chiuderla e quindi di utilizzare l'unica corsia sull'altra canna con un senso unico alternato. Per quanto riguarda accorgimenti, l'unico accorgimento che si può adottare in questi casi è dare un'esatta e precisa comunicazione alla clientela in maniera tale che la clientela si possa attrezzare e chi magari non ha degli orari vincolati negli orari di picco possa in qualche modo circolare in altri orari, piuttosto che eventualmente nel momento in cui dovessimo, soprattutto in condizioni mete un po' particolari, ritenere che le condizioni impervie dell'autostrada richiedano l'interdizione del traffico ai veicoli pesanti, si potrebbe pensare a manovre anche di quel tipo. Però torno a dire, la cantierizzazione resta questo. Il merito poi a quello che lei diceva, che leggeva nell'editoriale di stamane, l'abbiamo letto anche noi, io quello che posso dirle è che in questo momento tutti gli interventi sulla parte idrica sono di assoluta responsabilità del commissario straordinario e non sono mai ricaduti nell'alvio delle responsabilità di strada dei parchi, perché strada dei parchi per convenzione da quando poi quest'autostrada è stata costruita, era ANAS e quindi le prime convenzioni con i gestori idrici, in qualche modo non è il soggetto responsabile delle opere di collettamento dell'acqua potabile e di captazione dell'acqua. Questo comunque non toglie che chiaramente nel momento in cui ci dovesse essere una, venisse formulata una richiesta a strada dei parchi per dare il proprio contributo, ci potremmo ad operare anche noi per andare ad elaborare una soluzione tecnica e proporla. Ecco, quella che mi pare di recepire come ampia disponibilità a tutto da parte vostra si estende anche al fatto di, per esempio, se dovesse essere riproposto un intervento di questo tipo, partecipare ed essere disponibili ad un tavolo di confronto anche con i portatori di interesse che sono gli autotrasportatori, che sono gli utenti, anche per eventuali misure di indennizzo, di rimborso dei disagi che comunque andranno a subire? Allora, la disponibilità di strada dei parchi nei confronti della clientela è sempre assoluta, quello che solo però posso dirle, mi rendo conto che magari non è quello che gli ascoltatori speravano di sentire è che le esenzioni o le agevolazioni dal pagamento del pedaggio non ci sono consentite in autonomia, noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che è il nostro concedente, quindi per quanto riguarda questa tematica delle esenzioni l'abbiamo studiato anche per quelle che potevano essere eventuali richieste anche in questo caso, quale fosse l'importo, l'importo non è irrilevante se a questo uniamo il fatto che questa è una fase di indagine, ci saranno dei lavori che avranno durate ben superiori e nel traforo del Gran Sasso si dovrà andare anche a lavorare per l'adeguamento degli impianti antincendio, non mi sento di suggerire un approccio di questo genere perché credo che sarebbe un po' difficile da realizzare per i costi eccessivi. Per quanto riguarda invece in generale, io su questo poi chiuderò perché il tempo non ci consente di dare una, io la invito anche per una prossima occasione, uno scenario completo, però a che punto sono in generale i vostri lavori di miglioramento antisismico su A24 e anche A25, la pianificazione e la realizzazione, soprattutto avete fondi sufficienti per portare avanti questo vostro cronoprogramma? Allora quello che posso dire è che l'adeguamento della normativa antisismica, non solo la normativa antisismica, anche altre normative tecniche intervenute, è stato anche qui conferito questo incarico ad un commissario straordinario che in questo caso è l'Avvocato Corsini, l'appannaggio al quale fa riferimento sinora l'Avvocato Corsini è di circa 3 miliardi di Euro, di questi 3 miliardi di Euro, una cifra leggermente inferiore a 2 miliardi di Euro è stata sostanzialmente affidata, nel senso che noi abbiamo 6 lotti affidati di viadotti per un numero di viadotti pari a 26, abbiamo altre 3 gare che sono in fase di affidamento per altri 12 viadotti, abbiamo in fase di affidamento l'intervento per l'adeguamento alla normativa antincendio del traforo del Gran Sasso, quindi come le dicevo quasi 2 miliardi di Euro se non sono ancora stati affidati sono in fase di completamento dell'affidamento, residua un miliardo di Euro che ci risulta che in qualche modo adesso l'Avvocato Corsini e la struttura commissariale stiano definendo come in qualche modo attribuire una delle possibilità che ascoltiamo è quella della variante di Roviano che è un tratto che sicuramente meriterebbe un intervento urgente anche perché è stato soggetto ad un evento franoso qualche anno fa, si è sfiorata la tragedia, strada dei parchi ha prontamente inserito delle reti paramassi in quella zona, però è un fronte franoso che meriterebbe un intervento di tipo più definitivo. Rispetto a questi fondi stanziati che come dicevo prima ammontano a 3 miliardi di Euro, l'elemento addizionale che posso dire comunque che da un documento ricognitivo da parte del commissario straordinario le esigenze dell'autostrada sono state quantificate in una cifra tra i 14 e i 15 miliardi di Euro, quindi sotto questo profilo non possiamo che auspicare che la politica dia un segnale e quindi questi fondi possano venire stanziati con le prossime manovre. Certo, assolutamente, questo è la salvaguardia della sicurezza di tutti noi che viaggiamo sulle autostrade. Io la ringrazio ingegneri voi perché in un momento anche di grande lavoro per lei, immagino di grande fibrillazione per tutti, anche per noi operatori dell'informazione ha avuto la gentilezza e anche la capacità espositiva nell'accettare il nostro invito e per questo io proprio sugli altri temi relativi alla sicurezza antisismica che sta a cuore a tutti l'ai invito in una possibile futura intervista perché è chiaro che è bene informare con trasparenza su ciò che sta avvenendo su una delle principali infrastrutture della nostra regione e anche del paese. Grazie, grazie direttore, grazie a lei, un saluto a tutti quanti i telespettatori e i telespettatrici. Arrivederci e buona serata. Arrivederci.